Mi trovo dinanzi allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, più precisamente dinanzi alla Curva Nord, all'entrata della Curva Nord, e qui la statua del mitico Erasmo Iacovone, un grande uomo prima che un grande calciatore. Ma io perché ho voluto essere vicino a Iacovone, che rappresenta certamente una icona, per la tifoseria Rosso Blu, perché negli ultimi giorni, non dico mesi, ma da un mesetto, forse più o meno, sta circolando una voce molto pericolosa ed insidiosa, la possibilità che Arcelor Mittal, ossia la nuova proprietà dell'Ilva, possa o acquistare il Taranto o, se non acquistare, essere uno sponsor pesante rispetto alla squadra Rosso Blu. Io preciso che i colori Rosso Blu sono sacri, i tifosi ritengono sacri i colori, e non devono essere assolutamente imbrattati da una realtà come Arcelor Mittal che sparge morte e veleno. Ci capiamo subito. Noi preferiamo che il Taranto faccia la sua vita dignitosa anche in Serie D, con enormi sacrifici, ma con la dignità. Non vogliamo assolutamente asservirci e venderci a questo mercante di morte che è Arcelor Mittal. Ma qualcuno potrebbe dire, tu parti prevenuto nei confronti di Arcelor Mittal. No, assolutamente. Dal momento in cui si è insediato, non c'è stata una cosa di quanto promesso che è stata realizzata. E i fenomeni di slopping si verificano un giorno sì e l'altro pure. Per non parlare poi di pericolosi incidenti potenzialmente mortali nello stabilimento, che solo grazie a Dio o chissà a quale santo non si sono verificati. E allora è una cosa schifosa che Arcelor Mittal voglia mettere le mani sulla città, voglia far sì che il cittadino e il tifoso si ubriachi attraverso la sponsorizzazione della squadra. Perché in questo modo si direbbe, direbbe ragione in questo modo Arcelor Mittal, io vi porto in serie B, io vi porto in serie A, però voi a questo punto sulla questione ambientale dovete stare zitti. Un po' Arcelor Mittal ha dato il meglio di sé a Natale, con i contributi al Comune per le luminarie, o la pista di ghiaccio in Piazza della Vittoria con tanto di scritta Arcelor Mittal e il biglietto gratis ai ragazzi che pattinavano, ragazzi non oltre i 10 anni di età. Ora la stessa operazione Arcelor Mittal, ve lo posso assicurare, la sta tentando col Taranto Calcio. Perché Arcelor Mittal, da fonti molto ma molto fondate, sta cercando di entrare nel grande sistema calcistico, appoggiando ovviamente la squadra, la società, proprio cercando, questo è il suo obiettivo, con la finalità appunto di, come dire, comprarsi il silenzio dei tifosi, dei cittadini. E non posso minimamente accettare la voce secondo cui si dice, il ragionamento secondo cui si dice va bene abbiamo l'inquinamento a Taranto, però visto che c'è e non possiamo eliminarlo, almeno Arcelor Mittal facesse qualcosa per il calcio. No, questo significa vendersi. I tifosi rosso-blu, la tifoseria rosso-blu non è una tifoseria che si prostituisce, perché accettare un discorso del genere significherebbe prostituirsi e con un discorso del genere una persona come Erasmo Iacovone, con quei valori umani, e sottolineo, umani prima ancora che calcistici, e i valori calcistici erano eccelsi, beh, dinanzi a questa realtà il povero Erasmo Iacovone si rivolterebbe nella tomba. Faremmo del male innanzitutto a lui e parimenti e contemporaneamente anche a noi stessi. Vedete, i metodi di Arcelor Mittal sono molto, ma molto simili a quelli dei Riva. I Riva si compravano l'informazione. Arcelor Mittal ha incominciato a comprare pagine di giornali, a comprare spazi sul web, proprio per tacitare l'informazione. Poi è passato, e lo ripeto perché è ripetita Juvent, è passato al discorso natalizio e ora vi posso assicurare che l'intento è quello di mettere le mani sul Taranto Calcio. Allora io invito il Presidente Giove, una persona che stimo, a se dovesse mai verificarsi questa ipotesi, se vi dovesse essere un avvicinamento molto, ma molto pressante da parte di Arcelor Mittal, di dire no, no e no. Altrimenti io, signori cari cittadini di Taranto e tifosi, io insieme alla parte sana della città, io insieme agli altri saremo pronti a dire disertiamo lo stadio, non andiamo allo stadio se i colori rosso-blu vengono imbrattati, vengono stuprati da una realtà come Arcelor Mittal che rappresenta la morte di Taranto nel presente e nel futuro. Scusate lo sfogo, ma carpire la buona volontà, carpire la buona fede, carpire i sogni, le ali della speranza dei tifosi attraverso un compromesso squallido e schifoso come l'entrata di Arcelor Mittal nel mondo del calcio in cambio del silenzio sulla questione ambientale è una cosa che mi fa schifo e fa schifo alla parte sana di Taranto, sia al Taranto Calcio, no ad Arcelor Mittal.